L'innovazione è fondamentale, l'industria 4.0 è una serie di tecnologie indispensabili per l'Italia perché permette di avvicinare la manifattura a standard di efficienza che sono veramente indispensabili per competere sul mercato globale. L'industria 4.0 vuol dire connettività, vuol dire tecnologie di base molto avanzate, vuol dire elettronica sofisticata e questi sono gli elementi di base per aumentare la produttività. Sappiamo tutti che l'Italia ha un problema di produttività manifatturiera, l'industria 4.0 è uno dei modi per affrontare in maniera vincente il tema, l'argomento della produttività manifatturiera. Quindi senza l'industria 4.0 credo sia praticamente impossibile competere a livello globale e la manifattura italiana è pur sempre la seconda manifattura europea, per cui sarebbe un treno che perdere sarebbe veramente da suicidio.